La legge della foresta, la regola del più forte, del più arrogante, del più violento. Ladri che aggrediscono chi tenta di fermarli, siringhe in centro storico, degrado. A Vicenza i commercianti lanciano l'allarme, così non si può più andare avanti. L'ultimo episodio questa mattina, quando in Piazza dell'Erbe un farmacista nota uno straniero che sta tentando di rubare un monopattino elettrico posteggiato negli stalli per le biciclette. Prova a fermarlo e i testimoni raccontano che a quel punto si scatena l'inferno. Il signore stava filmando il ragazzo che stava cercando di rubare un monopattino che si trova lì e praticamente vedendolo ha iniziato a smettere di filmare e l'ha iniziato a picchiare. e praticamente con un pugno alla faccia a un certo punto penso abbia perso i sensi e si è accasciato ed è caduto sulla vetrina della farmacia rompendo i vetri. Io avvicinandomi ho visto che era completamente con la faccia gonfia e perdeva molto sangue e il ragazzo poi l'ho visto scappare sotto una bicicletta e raccogliere il telefono con cui il signore aveva filmato. Il tentato furto, l'aggressione. Tutto questo succede alle 10 del mattino in pieno giorno a Vicenza in centro storico davanti ai passanti. I commercianti sono furiosi e lanciano una raccolta firme per dire basta al degrado. Uno per chiedere sicurezza e due per chiedere di svegliare un po' il centro storico che da un anno ormai è andato in caduta libera. Per terra i frammenti della catena che assicurava il monopattino ma girando in centro storico tra i sanpietrini si trovano sempre più spesso anche le siringhe. In Contra Garibaldi una bimba di un anno e mezzo si è trovata un ago conficcato su un sandalo. sembrerebbe che non sia stata punta fortunatamente ma anche questo testimonia una situazione sempre più critica. La questione del degrado è davvero molto molto sentita. La presenza di tossici addirittura di siringhe in centro storico. Noi abbiamo trovato qui in Corso Palladio un ago. Questo è un ago che appartiene a una siringa preriempita quindi con un serbatoio che contiene un farmaco. Non è il tipo di siringa che viene utilizzata dai tossicodipendenti però resta il fatto che è qui dove non dovrebbe essere e c'è un ago e qualcuno si potrebbe pungere. Restando in città questa è la situazione del degrado davanti all'asilo di San Rocco. Siringhe dappertutto vicino a un luogo frequentato dai bambini. Insomma i commercianti sono davvero esasperati. Qui bisogna prendere dei provvedimenti non seri di più. Turisti molto pochi, eventi pari a zero, sicurezza meno di pari a zero. Cosa devo dire? Non c'è niente da dire. Siamo qui e siamo alla frutta.